Ritorniamo alla cronaca, sequestrati 23 kg di prodotti ittici dai carabinieri di Mazzara del Vallo durante un'operazione anti-abusivismo commerciale nella piazzetta dello Scalo. La merce con ordinanza del sindaco Cristaldi è stata conferita nella discherica comunale in quanto di dubbia provenienza e dubbio stato di conservazione. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a salvaguardia della salute pubblica a rivolgersi per l'acquisto di qualsiasi prodotto a commercianti regolarmente autorizzati che sono garanzia di qualità e salubrità dei prodotti stessi in quanto sottoposte ad una serie di regole e controlli. Hanno vinto un milione di euro al gioco del 10 e l'8. È successo a Castelvetrano presso la ricevitoria di Via Trapani. Una somma, dice la titolare dell'attività, che è stata vinta con un sistema realizzato direttamente dalla ricevitoria che andrà suddivisa tra 20 persone. Nuovi scempi ambientali sulla costa di San Vito Lo Capo. La denuncia di un giornalista freelance che chiede di fare chiarezza attorno alla Baia Santa Margherita. Due gli episodi denunciati, il sindaco pronto ad effettuare un'indagine amministrativa interna al comune. In territorio di San Vito Lo Capo, tra Monte Cofano e Macari, si trova Baia Santa Margherita, un'ottima alternativa, queta, ecosostenibile e di enorme fascino, alla nota apprezzata spiaggia di San Vito Lo Capo. Ed è a Baia Santa Margherita che, secondo quanto si apprende dalla Clark Press, avrebbero avuto luogo due gravi scempi ambientali. Infatti, la falesia della Baia, area di particolare pregio ambientale, era già stata precedentemente danneggiata con l'apertura di un barco non autorizzato. A questo primo episodio ne è seguito più recentemente, nel mese di luglio, un altro. C'è chi si chiede il perché, motivandolo con il presunto coinvolgimento di un operaio che già avrebbe prestato opera per l'amministrazione comunale sanvitese e, presumibilmente, facendo uso di una ruspa nelle disponibilità dell'istituzione comunale. In discrezione queste, che ancora non sarebbero state chiarite o smentite. Il sindaco di San Vito Lo Capo ha fatto comunque sapere, mediante un comunicato stampa, che è stata aperta per far luce sull'accaduto a un'indagine amministrativa interna. Vittorio Morace passa la mano al figlio Ettore. Il cambio nella guida di Ustica Lines è avvenuto lo scorso primo settembre. Ettore prende il mio posto come amministratore delegato, ma era già successo circa vent'anni fa, quando io ebbi un infarto. E io resto a fare il presidente, afferma Vittorio Morace, in un'intervista sul sito notiziario eolio.it. La storia dell'Ustica Lines comincia nel 1993, anno di fondazione, quando, con un aliscafo preso a noleggio, inizia a solcare i mari sulle prime rotte Napoli, Ustica, Favignana, Trapani e Trapani Pantelleria, Che Libia. Avviati a Favignana, dall'amministrazione comunale, i lavori per il completamento della rete fognante, per la riqualificazione del lungomare Duilio. I lavori prevedono anche la messa in funzione dell'impianto di sollevamento per la depurazione e la realizzazione dell'illuminazione del lungomare. Ad Alcamo finalmente si collauda lo stadio Sant'Ippolito, il comune ha fissato per la prossima settimana il suo pralluogo tecnico. In questo modo l'impianto potrà essere fruito dopo i radicali interventi di ristrutturazione dei particolari. Se non sorgeranno altri contrattempi, martedì della prossima settimana il comune di Alcamo procederà al collaudo dello stadio Sant'Ippolito allo scopo di consentirne la piena fruizione. Da collaudare gli spogliatoi e impianti elettrici. La ditta che ha effettuato i lavori ha da tempo consegnato la struttura al settore sport del comune, ma poi si sono accorti di alcuni problemi, pare in via di superamento, e sarà la stessa impresa ad eseguire per i prossimi tre anni la manutenzione grazie al ribasso d'asta che è stato di 240.000 euro. Parte di questa somma dovrebbe essere impiegata per dotare il Sant'Ippolito di un adeguato impianto di illuminazione, approvato lo scorso gennaio durante la conferenza di servizio e poi misteriosamente arenatosi tra le secche della burocrazia. Oggi ancora è tutto fermo, ma non si ferma l'attività della squadra dell'Alcamo, allenata da Massimo Messina, che quest'anno disputerà il campionato di seconda categoria dopo il trionfale esordio nella terza durante lo scorso campionato. La società, preseduta da Marco Messina, vicepresidente Angelo Gruppuso, dirigente Gianluca Abbinanti, partirà con propositi ambiziosi. Intanto c'è unanimità di consensi per intitolare lo stadio all'indimenticato Nonoccilluffo che dedicò la sua vita al calcio. In coincidenza con la riapertura delle scuole, lunedì prossimo a 14 settembre, torna in vigore l'orario invernale dei bus urbani a Marsale, quanto comunica il Servizio Municipale Autotrasporti, che in pratica ha ripristinato le stesse linee sospese a giugno con l'inizio del periodo estivo. 12 le corse con andata in ritorno, con capolinea all'autostazione di Piazza del Popolo, più una linea supplemento che va ad aggiungersi alla numero 1, svolgendo anche il ruolo di navetta tra le scuole e l'autostazione. Per quanto riguarda la domenica è assicurata la sola corsa che da Piazza del Popolo porta all'ospedale, passando però dalle contrade Sappusi e Amabilina. Verso la settimana corta per circa 1000 alunni di media ed elementare a Partinico, i genitori con referendum votano a stragrande maggioranza per l'elezione dal lunedì al venerdì. Adesso l'ultima parola passa al Consiglio d'Istituto. Vediamo. Rivoluzione in vista per l'Istituto Comprensivo Archimede Priviteria di Partinico. Presto potrebbe arrivare la settimana corta, provvedimento che riguarderebbe da vicino le sezioni dell'elementare della media, per un totale all'incirca di 1000 alunni coinvolti. Già sono stati superati due step con le votazioni del Collegio Docente e del referendum istituito fra i genitori. Manca ora solo l'ultimo ostacolo del Consiglio d'Istituto che sarà convocato in questi giorni e che dovrà prendere la decisione definitiva. Ma non potrà fare a meno di tenere in forte considerazione quanto stabilito prima dal Collegio dei Docenti, che si è detto favorevole nel 65% dei votanti, e successivamente dai genitori. Dai circa 1000 votanti previsti, poco meno di 400 si sono presentati alle urne per un'affluenza di circa il 33% degli eventi diritto. Dei votanti all'incirca l'80% si è detto favorevole alla settimana corta. La restante minima parte si è invece opposta. In merito, la dirigente scolastica Roserizzo preferisce ancora non sbilanciarsi né tantomeno esprimersi rispetto a questa importante decisione che si accinge a prendere l'Istituto. Sono modalità organizzative e interne, afferma. Al momento non posso rilasciare dichiarazioni alla stampa. Ma cosa cambierebbe se arrivasse l'orario ridotto? Anzitutto gli orari. Le singole ore di lezione sarebbero ridotte dagli attuali 60 minuti a 55. In secondo luogo si entrerebbe alle 8.15, quindi un quarto d'ora prima rispetto all'attuale orario, e si uscirebbe un quarto d'ora dopo, quindi alle 13.45. Già alla scuola la fata, la settimana corta è entrata in regime da tempo e ci sarebbe stato anche il gradimento di genitori, docenti ed anche degli stessi piccoli alunni che hanno un intero fine settimana per ricaricare le batterie e staccare quindi dai doveri didattici. Da tenere in conto che anche per il comune di Partinico ci servono dei vantaggi di non poco conto in un momento in cui si parla tanto di spending review. Infatti la chiusura anticipata di un giorno alla settimana consentirebbe al municipio un risparmio non indifferente nei costi di gestione dei plessi dell'Istituto Comprensivo in termini di bollette dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, telefoniche e di quant'altro connesso al funzionamento degli uffici scolastici e amministrativi. In vista dell'inizio dell'anno scolastico, novità anche per l'Iceo Classico di Via Filippo Testa che verrà trasferito nella sede centrale di Contrada Turrisi in quanto sono ancora in corso i lavori di ammodernamento e adeguamento della struttura. Il 10 ottobre il cantiere dovrebbe chiudersi e quindi i circa 400 studenti farebbero un ritorno nel plesso di Via Testa. Si tratta di una pausa di doverosa ed improrogabile riflessione. Il consigliere comunale di Eiric Enzo Caico non fa più parte del gruppo del PSI. L'ha dichiarato oggi in aula. Caico lascia perché non condivide le scelte politiche del gruppo. Una scelta che riduce la rappresentanza socialista nel consiglio comunale di Eiric e che passa da 5 a 4 consiglieri. Rimangono nel gruppo Alberto Mazzeo, Luigi Nacci, Giuseppe Avastra e Giuseppe Vassallo. Caico, dopo aver annunciato di lasciare il gruppo consigliare del PSI, si è dichiarato indipendente. Il Partito Socialista è all'opposizione dell'amministrazione del sindaco Giacomo Tranchida. Ad Eiric il centro-sinistra continua a rimanere diviso con il PD che sta dall'altra parte a sostegno del primo cittadino. Il sindaco di Trapani contro tutti. Continuiamo con la politica presentata alla relazione annuale, la prima dopo tre anni di governo. Accuse a politica e burocrati. Il consiglio si spacca tra chi chiede le sue dimissioni e chi invece vuole un governo di salute pubblica. Contro tutto e tutti, il sindaco Vito Damiano di Trapani, non solo con la politica con cui da tempo ha rotto i ponti, ma anche contro la burocrazia del municipio. Quindi dito puntato persino contro i dirigenti che dirigono i vari settori della macchina amministrativa. Attacchi frontali anche ai suoi predecessori che avrebbero compromesso la governabilità del comune trapanese. Questo e tanto altro è contenuto nella relazione annuale del primo cittadino presentata al Consiglio Comunale. In realtà si tratta di una relazione triennale dal momento che in tre anni di governo questa è la prima che presenta l'assise. Damiano ha garantito di avere fatto il possibile in questi tre anni. Ho gestito e continuo a gestire, evidenzia, una condizione finanziaria emergenziale del comune a causa di spese in passato che hanno ingessato i bilanci. Le solite scuse di chi ha fallito su tutta la linea, la replica del consigliere comunale Mimo Fazio che è stato sindaco per le due legislature precedenti a quella attuale. Credo che sarebbe più onesto da parte sua se si dimettesse e confermasse questa disfatta. La relazione del sindaco ha comunque confermato diversi aspetti politici. Primo fra tutti la spaccatura interna al Partito Democratico con una parte aspramente critica e un'altra invece che ha atteggiamenti molto più soft. Enzo Abbruscato ha sgomberato il campo dalle insistenti voci di questi giorni che vorrebbero il sindaco, oramai da lungo tempo senza una maggioranza e con assessori quasi esclusivamente tecnici intenzionato a creare un governo di salute pubblica. Ho sentito parlare di governo di salute pubblica evidenziato Abbruscato, rivolgendosi a Damiano e di una sua proposta che avrebbe dovuto discutere con me nella qualità di capogruppo del PD. Le consiglio di non perdere questo tempo. Il collega di gruppo invece lascia molti più spiragli. Un governo di salute pubblico lo si sarebbe potuto fare da tempo precisa Nini Passalacqua. Quest'ultimo si è nettamente opposto alla mozione di sfiducia presentata dal PD nei confronti del primo cittadino tanto che non l'ha nemmeno firmata. Lo stesso consigliere ha sempre aperto al dialogo con Damiano. Hanno chiesto le dimissioni di Damiano l'ex capogruppo di Forza Italia, Totò Lapica. Così facendo il sindaco non fa altro che rafforzare i suoi peggiori nemici. Odio e amore invece per il Partito Socialista che a volte ha parole dolci ed altre invece riserva stoccate a Damiano tanto che ha annunciato più volte di essere d'accordo ad un'eventuale mozione di sfiducia. Se Damiano fosse stato prigioniero durante la Seconda Guerra Mondiale e ha evidenziato il capogruppo Andrea Vassallo sono sicuro che si sarebbe fatto torturare pur di non rivelare un segreto di Stato e una persona che stimo. L'indipendente Franco Briale continua invece a sostenere il primo cittadino senza se e senza ma. Sindaco le deve andare avanti il rilancio dell'amministrazione passa da un governo politico della città anche con la giunta di salute pubblica. Cerchiamo di addivenire ad un accordo nell'interesse della città basta con contrapposizioni che non fanno bene a Trapani ha dichiarato Giovanni Vassallo.